Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova serie tecnica Siamo in compagnia di Michele e Amise Ciao a tutti, io sono Blink46 e sono ovviamente in compagnia di questi due scemi Ma parla per te Ma infatti, ma che disegno Comunque, quest'oggi siamo in questo nuovo modpack tecnico Bastato sull'hardcore questing mod Abbiamo circa 50 quest super, ultra difficili da realizzare Ma sono di più No, ma sono circa 50, dai Oh, dovete iniziare a dare i numeri Ma sono di più, sono 80 Comunque, ho deciso di interrompere la gaming tech nel mio canale Per portare questa serie in compagnia dei Padawan e dei Blinkini Padawan Padawan Per far felici tutti quanti Per chi non ci segue su Telegram non lo capisce Non può capire, no, decisamente E quindi sì, d'ora in poi uscirà lunedì e il giovedì sul mio canale questa serie Mentre sul canale degli altri due partecipanti Quelli schifosi, brutti, che hanno i canali consulenti Quelli brutti, ovviamente, sì Uscirà il martedì, vabbè Martedì e venerdì da Joe Esatto Mercoledì e venerdì e sabato da me Perché faremo un episodio a testa No! Tutti i giorni, tranne la domenica, uscirà un episodio di questa serie Non sappiamo ancora che dominare Quindi date un nome nei commenti E... Si sta facendo notte Si sta facendo notte per fare quest'intro Ma... Esatto Ma va bene così Quindi vi invitiamo a lasciare un bel like Ovviamente Ricordiamo che i video saranno dal lunedì al sabato Durante la fascia oraria delle due E troverete un video al giorno sui vari canali Michele ha deciso di interrompere la Gaming Tech Io e Joe invece Provvisoriamente Interromperemo Provvisoriamente Va bene Interromperemo La Realm of My Night Visto che è una serie più o meno simile Però Come promesso Come promesso Vi lasceremo Il download della mappa Visto che eravate tanto affezionati Come anche noi Alla casa che avevamo costruito Che veramente Era una figata Esattamente No è bellissima È bellissima Che bello questo crepuscolo Mamma mia È carino però È romantico Guarda le lucine tutte illuminate Peccato che io sono mezzanella Sono incontro luce Non mi sembra più Razzista Ma è colpa mia Io direi che Michele può anche salutare tutti E basta Quindi ragazzi Ci vediamo lunedì Con il primo episodio di questa serie Stay Angry Stay Animals No 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 Cosa? Stay Angry Stay Blinkini Panda Quindi ci vediamo lunedì Con il primo episodio di questa serie Ci vediamo al prossimo video Bella Bella Ciao Bella Bella